Il supporto per la sicurezza di Windows 7 è terminato ieri 14 gennaio 2020, ve lo avevo già anticipato in qualche video. Grazie a una vulnerabilità è possibile continuare a ricevere gli aggiornamenti come le aziende che hanno acquistato l'ESU. Microsoft ha comunicato già da tempo che a partire dal 15 gennaio 2020 apparirà una notifica che avverterà dell'avvenuta fine del supporto il 14 gennaio e dei rischi di sicurezza che ne conseguono. Grazie alla seguente procedura è possibile ricevere extended security updates su qualsiasi PC, tablet, Windows 7. Prima di procedere installati mi raccomando tutti gli aggiornamenti disponibili pubblicamente nel Windows Update. Scaricate ed estraete il necessario dei link presenti nell'articolo di Windows Blog Italia che lascio in fondo alla descrizione. Cliccate con il tasto destro del mouse sul file installer e selezionate Esegui come amministratore. All'eventuale richiesta di controllo dell'account utente cliccate su sì. Attendete l'installazione delle DLL necessarie. Se l'operazione è andata a buon fine visualizzerete il messaggio Done. Vi basterà premere un tasto qualsiasi per completare l'operazione. Riavviando il PC il device riceverà finalmente gli aggiornamenti estesi di Windows 7. Vi ricordo che è possibile aggiornare gratis e legalmente a Windows 10 grazie all'articolo dedicato presente sempre in descrizione. Avete già aggiornato i vostri PC tablet a Windows 10 oppure avete optato per il supporto esseso di Windows 7? Fatemelo sapere nello spazio dedicato ai commenti. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Grazie a tutti.